Esiste una differenza di genere fra uomo e donna nel mondo dell'arte. Potremmo incanalarci in discorsi infiniti, tristi e ritriti. Mi piace pensare che sia che nell'arte gli esseri umani hanno da provare a dire, a viverci e a esistere. Questo che voglio, mi piace e vorrei. Grazie a tutti.